16 cuffie ipotermiche per chemioterapia sono state donate al Club Inner World di Foggia a Landos, l'associazione che offre supporto e servizi alle donne operate al seno anche all'interno delle strutture sanitarie locali. Alla cerimonia di consegna alla quale hanno partecipato le inerine di Capitanata e le socie della Onulus è stata abbinata una discussione sui temi legati alla prevenzione e all'innovazione. Gli studi confermano sicurezza ed efficacia in termini di riduzione della caduta dei capelli nel casco rifrigerante. Conservando infatti le temperature adeguate al cuoio capelluto, le cuffie impediscono o comunque limitano di gran lunga la caduta che inevitabilmente avviene quando le pazienti si sottopongono alla chemioterapia. Il Club Tutto al Femminile all'unisono dichiara si tratta di un bel aiuto a livello psicologico, soprattutto per le donne che durante un momento così delicato possono vedere di gran lunga ridotti gli effetti lesivi della propria immagine. Perdere i capelli per una donna significa infatti vedere compromessa la propria femminilità. Da oggi le 16 cuffie dal valore di 250 euro l'una sono a disposizione delle pazienti che vorranno rivolgersi all'Andos che plaude all'iniziativa benefica dell'Inner World che ha potuto contare sulla partecipazione di oltre 200 persone. Non solo entusiasmo ma anche tanta professionalità per l'inizio di un cammino che le due associazioni vogliono percorrere insieme. Del successo dell'evento di beneficenza Progetto Donna, donale un sorriso per continuare a brillare. Siamo certi se ne parlerà ancora tanto. L'Inner World è un'associazione al femminile che conta in tutto il mondo 103.000 presenze. In ogni parte del mondo c'è un'associazione Inner World, dalla Spagna, in America, nelle Filippine, in Australia, in ogni parte del mondo e quindi anche in Italia e anche a Foggia, da 36 anni al servizio dei più bisognosi. La nostra associazione ha 36 anni che comunque continua a presentare dei service importanti e quest'anno ne abbiamo presentati due. Uno per i ragazzi e quindi per le scuole media. Attraverso un premio scuola doneremo il 9 aprile al Teatro Giordano due defibrillatori e il secondo, questo di stasera Andos, per le cuffie ipotermiche e poi ancora tanti progetti importanti per aiutare la città. Oggi doniamo le cuffie all'associazione Andos, associazione nazionale donne operate al seno. Siamo riusciti con una raccolta fondi importantissima a donare 16 cuffie. Per noi è un traguardo importante.